La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è sempre attenta al sociale e in occasione della gara di campionato da due silver in programma domenica 29 marzo alle ore 18 tra la Benacquista Latina e l'Andrea Costa Imola al Palabianchini arriveranno i responsabili della scuola di tifo per promuovere una cultura sportiva attraverso la diffusione di una logica di tifo in favore della propria squadra e non contro l'avversario. Si svolgeranno mini partite e attività ludiche dalle 15 alle 16 e 30 direttamente sul parquet del Palabianchini per vivere un pomeriggio all'insegna della lealtà e della correttezza sugli spalti e in campo. Ai bambini presenti saranno regalati gadget e sarà offerta la merenda in attesa di tifare dalle tribune i campioni della Benacquista Assicurazioni Latina impegnati in una gara molto importante nella quale come non mai sarà necessario il calore del pubblico per conquistare due punti.